ciao e benvenuto la voyager cup di oggi parleremo di italia e di possibilità di spostarsi poi parleremo di stati uniti e infine di tunisia e lo si ventilava ma finalmente c'è una certezza ci si può spostare da una regione rossa italiana per raggiungere un porto un aeroporto anche attraversando poi un'altra regione rossa non c'è problema ma per che motivo per turismo è molto importante questa cosa infatti i paesi inseriti all'interno dell'elenco c dell'ultimo dpcm sono si può andare a vederli e quali sono questi paesi ma per esempio la spagna ma per esempio la grecia oppure ancora la slovenia manco e malta ma ce ne sono veramente tanti vi rimando al nostro articolo dove troverete l'elenco di tutti questi paesi che si possono raggiungere in ambito turistico attenzione però dovete verificare prima della partenza i protocolli di ingresso i protocolli sanitari per questi singoli paesi quindi se ci sono tamponi o vaccinazioni da fare obbligatorie per potervi accedere e parliamo di notizie positive perché questa è sicuramente positiva per per il la possibilità di andare finalmente in vacanza dopo un anno di restrizione anche gli stati uniti potrebbero allentare le restrizioni da metà di maggio infatti ad oggi fino al 21 aprile è tutto bloccato ma l'amministrazione biden sta pensando di aprire per i paesi della dell'europa per il regno unito per il canada per il messico per il brasile già da metà maggio la situazione viene monitorata di settimana in settimana quindi ogni settimana ci potrebbero essere delle novità e infine concludiamo parlando della tunisia e perché perché importante un paese molto vicino a noi con delle caratteristiche molto simili a noi paese mediterraneo con tanto mare tanta natura tanta storia quindi il ministro del turismo appunto tunisino ha messo giù una linea guida di programma per il rilancio del paese ed è importante imparare anche dagli altri a copiare le cose più interessanti e quali sono questi pilastri per il rilancio del turismo in tunisia innanzitutto la sicurezza per quanto riguarda il turismo sia fisica che per quanto riguarda poi anche la salute ma non solo poi ampliamento del settore con la destra giornalizzazione non solo mare d'estate in tunisia ma anche durante l'inverno altre caratteristiche come per esempio il patrimonio storico culturale ma non solo l'ampliamento dello sviluppo turistico nel sahara oppure nell'ambito sportivo con la creazione di altri campi da golf oppure ancora per quanto riguarda la salute la talassoterapia sviluppo anche di questo nuova campagna di comunicazione in tutta europa e poi anche sostegno alle programmazioni di voli charter ovvero i voli che portano i turisti da un determinato paese fino all'interno della tunisia ma non solo per sviluppare questo alla tunisia ha ben pensato dopo aver vaccinato tutti gli operatori del settore sanitario di cominciare a vaccinare anche quelli dell'operazione del settore turistico di modo da avere una certezza di sicurezza per quanto riguarda il turista che arriva e si trova personale che è vaccinato e che può naturalmente stare in contatto senza nessun tipo di problema questo naturalmente in vista della prossima stagione il 2022 ma già adesso il turismo si sta si sta muovendo e stanno cominciando a rimettere in piedi appunto questo settore questa è l'ultima notizia per quanto riguarda le Voyager Cup io vi ringrazio vi do appuntamento a venerdì e a mercoledì per quanto riguarda invece l'approfondimento trovate tutte le nostre puntate qua su youtube e potete naturalmente iscrivervi al nostro canale per ricevere poi la notifica infine seguiteci su tutti i nostri social siamo su twitter su facebook su instagram e mandateci materiale che noi dopo pubblichiamo per esempio come vi diciamo sempre le cose più belle del vostro paese le fotografie due righe di spiegazione io abito qui e di questo paese bello questo 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 rendiamo pubblica appunto le bellezze della nostra Italia che sono tantissime e quindi bisogna spingerle tutte infine vi ricordo che potete scoprire le nostre offerte su voyager125.it vedete il link qua sopra anche per quanto riguarda l'estate prossima per il mare Italia infine le nostre notizie le trovate su voyagertraveler.com io vi ringrazio vi do appuntamento alla prossima Voyager Cup ciao